Ehi, voi avete studiato per la verifica di scienze? Io sì, certo. Io più o meno non... Non ci sono mai andato bene di questa materia. Io sì, ovvio. Tu sei la migliore della classe. Già. Lo so. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, Andrea. Ehi, qualcosa non va? Sì, hai una faccia strana. Oh, no, non è niente. Ma dai, diccelo. A noi puoi dire tutto. Va bene. Ieri pomeriggio sono stato con Liam. E... Sei stato con Liam? Seriamente? Ma come? Sì, perché siete così sconvolti? Ma perché Liam è il nostro più grande nemico. Sì, è un nostro... nemico. È mio cugino ed è cattivo. Perché sei stato con lui? Ma non lo so, ieri non c'eravate ed ero da solo. Allora lui mi ha invitato da solo, non con i suoi amici. E niente, ci siamo divertiti. Beh, cosa ci vuoi dire in particolare? Beh, gli ho chiesto se voleva unirsi al nostro gruppo perché lui mi ha detto che non si trova più bene nel suo. Ah, non ne avevo idea. Beh, allora... E niente, ha detto che non può, deve dirlo ai suoi amici. Insomma, è lungo e... Beh, allora... Mi ha fatto dispiacere perché comunque con lui mi sono trovato bene. Avrei piacere di stare sempre con lui e voi. Tutti insieme, non separati. Questa è la prova di ciò che ti abbiamo detto. È cattivo, ti ha solo usato. Sì, si vede che aveva la luna storta e... E gli è andato di girare con te. Però è strano. Non ti fidare di lui, è falso. Drin! Veloce, mangiamo tutto e andiamo in classe. Io vado già in classe, ragazzi. Va bene. Liam che sta con Andrea. Tutto ciò è molto interessante. Nasconde qualcosa. E io lo scoprirò. Nell'intervallo? Sì, sì, ragazzi, vuoi un attimo in bagno? Va bene. Allora, tu nascondi qualcosa. Diana? Cosa dici? Io non nascondo nulla. Certo, allora la storia che sei stato con Andrea, eh? Cosa? E tu come l'hai saputa? Me l'ha detto lui, genio. È il nostro amico, ci dice tutto. Beh, non sono affari tuoi. Eh, senti, io certe cose le capisco. Sono la proprietaria di un blog. Beh, che cosa hai capito? Ho capito che ti piace. Che cosa? No, ma non è vero. Siamo... Cioè, non siamo neanche amici. Sono uscito con lui solo perché mi facevo pena che era da solo. Certo, pensi che io me la beva? Comunque non sono venuta qua per prenderti in giro o scriverlo sul blog. Sono qui per aiutarti. Davvero? Sì, ho sentito che ci sarà una festa di Halloween a casa di Andrea. Beh, quale migliore occasione per conquistarlo? Non lo so se mi oso e se i miei amici lo accetteranno. Quegli amici sono falsi. Lascia il gruppo e in cambio ci entro io. Ah, ma allora è questo il tuo scopo? Sì, io ti aiuto a conquistare Andrea e tu in cambio mi dai il posto nel gruppo dei popolari. Ci stai? Ehm... Ci sto, va bene, ma non parlarne con i tuoi amici. Va bene, sarà un segreto. E tu non parlarne con i tuoi. Ovvio. Il giorno della festa di Halloween. Ok, il tavolo è pronto. Ah, meno male i miei genitori e mia sorella sono mia, così ho casa libera. Sarà una festa favolosa! Uh, i primi invitati! Ciao ragazzi, entrate pure. Ciao Andrea. Wow, la casa è tutta decorata. Che bello! Oh sì, venite pure di qua. Qui c'è un banchetto. Se volete potete rilassarvi di qua in salotto. Ok, ci prendiamo qualcosa da mangiare e poi ci sediamo di là. Mettiamo qualcosa di spaventoso in tele. Oh, altri invitati! E vado ad aprire! Va bene, noi ti aspettiamo qui. Buonasera! Ciao! Wow, ma la casa è tutta decorata! Ti sei superato, hai fatto tutto da solo. No, mi hanno aiutato i miei genitori. Comunque l'abbiamo orata. Era già decorata prima, non solo per la festa. Sì, abbiamo aggiunto qualcosa però. Ok. Ciao ragazzi! Belli i vostri costumi. Grazie. Anche i vostri sono molto belli. Sì, sei stupenda. Poco dopo. Wow, questa festa ti è proprio riuscita. Grazie. E non ne ho organizzate tante nella mia vita. In realtà è la prima. Con gli amici intendo, se no non lo facevo con i miei parenti. Oh, povero, sarei stato da solo. Beh, la tua prima festa è stata la migliore. Grazie ragazzi. Continua. Stelline, l'episodio finisce qui. Continuerà la prossima volta, quindi non perdetevi la parte 2. Cosa ne pensate del piano di Diana e Liam? E niente, lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi nessun video. E ci vediamo alla prossima. Ciao! Se avete notato qualcosa di diverso è solo perché Toca World e all'improvviso si è azzerato. Ed è per questo che un giorno il video è andato tardi online. Però vabbè. Ciao!